E siamo arrivati al momento della raffica di mercato. Con tante novità, soprattutto in Serie D. Partiamo dalla team Altamura. Priorità è confermare Casiello, Guadalupi e Croce. C'è un'idea nuova per la difesa, l'anzolla del Taranto. In difesa invece c'è una conferma per il Gravina e quella di Fabio Romeo. Terza stagione di fila per il difensore nel club giallo-blu. Si aggiunge a Capitan Chiaradia e a Ficara. Conferma anche a Molfetta perché ha firmato Lorenzo Legari. Giocherà con i Biancorossi anche in Serie D. E di fatto dopo le conferme di Pinto, la Vopa, Monteduro e Camarai. Gli innesti di Mingiano, Gogovski e Lamacchia. Prende sempre più corpo l'organico affidato a Mister Bartoli. La Fidelisandria in Serie D continua ad essere interessata a Simone Bolognese. Centrocapista classe 99 ex Bitonto. A Cerignola manca solo l'ufficialità per la firma dell'attaccante Savino Lionetti. Mentre a Taranto c'è una conferma. Parlavamo prima del mercato del Taranto. E' quella di Leo Guaita che di fatto resterà ancora in rosso-blu. Scendiamo in eccellenza perché c'è un nome importante. Confermato a Corato. Di fatto si toglie dal mercato Carlo Vicedomini. Che resterà in nero-verde anche nella prossima stagione. Centrocampista di Spessore. L'anno scorso è stato tra i pilastri del gruppo di Patron Maldera. In eccellenza c'è un ritorno a Barletta. Quello di Massimo Pollidori. Il classe 87 affirmato per il club bianco-rosso. Torna a giocare a distanza di 10 anni con la squadra della sua città. E' la quinta novità in organico dopo diritto. Giannicello, lo iodice e grazioso. Con mister Farina, allenatore del Barletta. Ha vinto l'eccellenza a Cerignola. E infine il Martina. Scatenato ingaggia Daniele Fruci. Difensore Dino Marino. Centrocampista che piaceva anche al Gravina. Entrambi ex Brindisi. Giocheranno in Valle Dietria. Fatta anche per il ritorno dell'attaccante spagnolo Delgado. Accordo a un passo per il centroavanti. di Pignatano.